Al binocolo l'ammasso aperto M93 appare come una piccola nube irrisolta. Invece con strumenti più grandi si mostra con una forma più allungata e aperta quasi a forma di ventaglio, addirittura fu definito anche come una stella marina o come una farfalla con le ali aperte. Sarà bello mettere a confronto questo ammasso aperto con l'ammasso aperto M41 situato sempre nel cane minore. Rispetto ad esso M93 è più piccolo e più lontano.